In compagnia del Rettore Aurelio Tomasetti, oggi ospite anche al SID dell'Università degli Studi di Salerno per questo workshop internazionale in diverse presenze estere. Sì, è un workshop importante perché tratta di un tema, quello delle rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, che è un rifiuto recente, nel senso che si ne dibatte da poco, ma di grande importanza, di importanza crescente, perché come è noto, ovviamente l'innovazione tecnologica implica anche la sostituzione, quindi la necessità degli scarti. L'approccio è quello giusto, innanzitutto per chi vede nel rifiuto una risorsa, perché ovviamente non è percepito immediatamente, ma né in questi rifiuti noi troviamo metalli preziosi, oro, argento, platino, quindi studiare per trasformare questo rifiuto in risorse, quindi riuscire ad estrarre da questi rifiuti e quindi favorirne poi anche il riciclo diventa un'operazione importante. Farlo qui alla nostra università per un progetto che è stato finanziato da un'azione europea COST significa fondamentalmente un riconoscimento al gruppo di ricerca del professore Belgiorno, che ha saputo attingere a finanziamenti europei e costruire questa rete, che in questo momento è a guida di una collega dell'Università Tecnica di Hamburgo, che si occupa stabilmente di questo tema. Averli qui a Salerno significa incontrare studiosi e rappresentanti delle istituzioni provenienti da 21 paesi, quindi un'occasione seria e anche un contributo serio ad un tema che guarda da vicino anche come cittadini della nostra regione. In compagnia di Vincenzo Belgiorno, oggi siamo ospiti del SID, quali sono gli argomenti che oggi tratteremo all'interno di questa riunione programmatica in cui ci sono ospiti diversi paesi europei? Il workshop di oggi è un workshop di avvio di un'azione finanziata all'Unione Europea che è riferita al recupero di metalli preziosi e di materiali di valore dal riciclaggio di rifiuti elettrici e elettronici. L'azione è stata finanziata nell'ambito di un progetto COST presentato all'Unione Europea, la presenza di 23 differenti paesi europei, secondo le regole dell'Unione Europea ogni paese europeo nomina due componenti del management committee dell'azione e oggi vi è proprio un workshop di presentazione dell'azione e di organizzazione delle attività future previste nell'ambito dell'azione.